Ben trovati amici sportivi al 21 settembre Franco Salerno, 22esima giornata del campionato di eccellenza, settima per il girone di ritorno. Si affrontano il Matera Grumentum e l'Eletta Marconia. Oggi c'è un ospite speciale nella tribuna ad onore dello stadio 21 settembre Franco Salerno, c'è Ciccio Doriano, indimenticato calciatore ma anche allenatore della squadra Bianca Azzurra. Partiti in questo istante, Matera Grumentum, intanto con le mani direttamente in ere di rigore, si gira bene, la mette in mezzo, non ci sono maglie rosse però deve recuperare. E poi il rimpallo, il tocco, si alza la bandierina di Matera di prima verso la carra, la carra va giù, non c'è fallo per il direttore di gara. Si alza la bandierina a segnalare la rimessa laterale ma nessun fallo su Peppe Lacarra. Subito di Matera per Gerardi, Gerardi in aria, Gerardi, Gerardi il tiro e il piede di Grieco a dire no a Giannantonio. Giannantonio mette il cross, colpo di testa a servire il compagno, la scivolata e il tiro e la rete passa in vantaggio il Marconia con il gol di Casale al minuto numero 14. doccia fredda per il Matera Grumentum, il tiro di Casale gonfia la rete. Il lancio di Matera di testa, Lacarra va giù, calcio di punizione. è rimasto Gerardi, va lui, palo e il gol di Cordisco, il gol di Cordisco ha pareggiato Antonio Cordisco con un tapin dopo il palo colpito da Gerardi. Ancora Cordisco punisce il Marconia ed è 1-1 al minuto numero 19. Il lancio è per Lacarra ma si alza la bandierina, prova a andare sul fondo Lobosco, si ferma, torna indietro, Lobosco punta l'aria, Lobosco in orizzontale dove c'è Cordisco, pallone dentro, Mariano Gerardi arriva sul pallone e la mette dentro! Pier Mariano Gerardi, Matera Grumentum 2, Marconia 1, il sorpasso è servito al minuto numero 27, l'assist di Antonio Cordisco e riferitore perfetto per il gol di Pier Mariano Gerardi che fa 2-1. Partemillesi direttamente in porta, alto sulla traversa, Di Matera, ancora lui allargato per Lacarra, si alza però la bandierina. Lacarra si gira, Lacarra cambia lato, pesca Falco, sovappone Pellegrini, Pellegrini la mette in mezzo, il tiro di Gerardi e 3-1. Chirurgico, Pier Mariano Gerardi la mette all'angolino sul cross di Nicola Pellegrini e al minuto numero 37 è servito il terzo gol del Matera Grumentum. Con le mani, la gioca all'indietro e termina qui il primo tempo, applausi per il Matera Grumentum. Ben trovati amici sportivi per il secondo tempo della sfida tra il Matera Grumentum e l'eletta Marconia, 3-1 il punteggio dopo i primi 45 minuti. Lobosco, pallone dentro, Falco, il tiro troppo largo. Pellegrini sovrappone, riceve da Lacarra, Pellegrini la mette in mezzo, pallone che danza, si alza sulla traversa, Lacarra. Ancora lui, dentro il pallone per Lobosco, Lobosco si alza la bandierina ma è una chiamata errata perché se qualcuno era in fuori gioco al massimo poteva essere Gerardi, sicuramente non Lobosco. Il primo palo è la rete, 4-1, ha segnato ancora il Matera Grumentum con il colpo di testa di Magliano, se non abbiamo visto male. Al minuto numero 16, la Musta, il lancio, c'è ancora Mengual, pallone dentro, Gian Antonio Crossi, alza la bandierina. Lacarra, se lo appone Pellegrini, lo fa bene, pallone per Gerardi, colpo di testa, andava a portarsi avanti, Pellegrini, il tiro! E' la gran rete di Nicola Pellegrini! Che gran gol che ha fatto Nicola Pellegrini! L'assist di Gerardi e il gran gol di Pellegrini per il 5-1, minuto numero 22. che si appoggia a Vignelli, anche lui non è precisissimo, il tiro da fuori e Pagratis cade e la palla non entra! Salvataggio miracoloso di Pagratis! Salvataggio miracoloso di Pagratis! L'arbitro però ha segnato lo gol, per noi il pallone non è entrato, ci saranno le immagini di Antonio Galetta a scoprire se è riuscito Pagratis a fare l'impresa oppure no. sta di fatto che però Fernandez, Isai, e poi il fallo di De Oliveira. E' il secondo giallo per Amengual al minuto numero 32. Il lancio, il colpo di testa di Casare, poi Fernandez non riesce a coordinarsi a spazio d'Italia. Guarda in mezzo, prova a metterla sul secondo palo, c'è Lobosco, pallone ancora vivo, Lobosco dietro per la torre, la torre, il tiro, deviato! In vantaggio d'Italia, è arrivato lo scorso pallone, poi il tiro e il gol di Alessio Isai! Su questo intercetto d'Italia è arrivato il gol di Alessio Isai al minuto numero 47. Il Matera Grumentum da questo è successo, Isai ancora intercette il pallone, Isai, 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 aspetta che arriva la carra, la carra, il tiro, e questa volta gli dice no. Isai si ferma e finisce qui. Ribadiamo il risultato dal 21 settembre. Matera Grumentum 6, Eletta Marconi a 2 e ci risentiamo alla prossima diretta. Grazie.